Il Covid può essere visto come un evento traumatico? In psicologia consideriamo un evento traumatico un evento che pone a rischio l'integrità psicologica o l'integrità fisica di una persona, che pone anche le persone a rischio di vita, che minaccia il senso di sicurezza personale. È un evento verso il quale ci si sente impotenti. Se consideriamo tutte queste caratteristiche degli eventi traumatici, sicuramente il Covid è un evento traumatico perché ha messo a rischio la nostra integrità fisica, ci ha fatto avvicinare alla possibilità di morire. Abbiamo visto, assistito alla morte di persone che conoscevamo, che non conoscevamo. La televisione stessa ha presentato moltissime volte immagini crude di situazioni di perdita di integrità fisica, di morti, di pazienti intubati, verso le quali situazioni avevamo tutti un senso di grande impotenza ed ha aumentato il senso di vulnerabilità personale. Quindi sicuramente quello a cui abbiamo tutti, quello che abbiamo vissuto, può essere considerato un evento traumatico, per giunto a un evento che negli ultimi anni si era verificato pochissimo. Dobbiamo tornare indietro al periodo delle guerre. Ci sono possibili conseguenze psicologiche in seguito all'esperienza Covid-19? Essere stati esposti a situazioni atipiche, a situazioni anormali, a situazioni che abbiamo definito traumatiche, come la situazione che si è verificata intorno a febbraio-marzo ed anche aprile della quarantena, produce nella maggior parte delle persone degli esiti psicologici. vengono definiti delle conseguenze emotive normali ad eventi anormali. Sono conseguenze emotive che tendono comunque a scomparire, sono caratterizzate da un senso di un maggior ansietà, di maggior preoccupazione. Si può alterare un pochino il sonno, l'umore può un pochino abbassarsi, ma sono nella maggior parte dei casi, delle conseguenze emotive che tendono a ricomporsi nel corso del tempo. C'è però una quantità, una certa fascia di popolazione che esibisce invece dei sintomi più severi ad essere stati esposti a questo periodo traumatizzante. Le stime epidemiologiche ci dicono che circa un 2,6% di popolazione in risposta ad eventi traumatici esibirà dei sintomi franchi che necessiteranno poi di cure specialistiche. Questi sintomi che io stessa nella mia professione ho incontrato a seguito dell'essere stati esposti al periodo della quarantena, al periodo del covid, sono sostanzialmente di tre tipi. Il primo tipo viene chiamato di aumentato e rousal. Cosa significa questa terminologia? Significa che i soggetti cominceranno ad esibire dei sintomi d'ansia in modo intenso, giornaliero, che possono essere caratterizzati anche da veri e propri attacchi di panico. Il sonno diventerà più disturbato sia in addormentamento sia durante il sonno, quindi può esserci un'insonnia lacunare, un'insonnia mattutina. C'è un certo grado di irritabilità e per giunta c'è un aumento di tensione muscolare, anche con delle somatizzazioni, quindi possono esserci mal di stomaci, mal di testa, quindi una situazione che attesta un'aumentata attivazione di tutto il nostro sistema nervoso. Poi un altro sintomo, un'altra categoria sintomatologica che generalmente si osserva è l'evitamento. Moltissime persone dopo il covid hanno cominciato ad evitare situazioni che prima frequentavano. Non vanno più in palestra, non vanno più al ristorante, non vanno più in luoghi affollati. E questo ha delle conseguenze importanti perché ogni volta in cui evitiamo andiamo a impoverire la nostra vita con delle conseguenze anche poi di tipo di tristezza, anche poi ad esitare su quadri francamente depressivi. Poi la terza categoria di problematiche che si riscontrano dopo gli eventi di questo tipo sono dei sintomi cosiddetti intrusivi, cioè delle immagini scioccanti a cui le persone hanno assistito molto spesso in virtù dei media che si ripropongono o nella veglia come flashback oppure nei sogni, quindi delle intrusioni di immagini che possono essere traumatizzanti. Nel caso in cui la persona viva questa complessità sintomatologica è il caso di rivolgersi a uno specialista o meglio a un'equipe di specialisti perché in primo luogo sarà cura del medico competente, quindi cardiologo o pneumologo, di attestare una negatività di tipo organico per poter fare una diagnosi di tipo invece psicologico. In seconda battuta c'è l'intervento congiunto del fisioterapista che aiuta lo psicoterapeuta a ridurre la contrazione muscolare che può essere sia a carico della muscolatura somatica, quindi delle spalle, delle braccia, ma anche a carico della muscolatura liscia, quindi del diaframma con difficoltà respiratorie e quindi l'intervento dello psicoterapeuta che è un intervento che andrà fatto in due fasi. Una fase per ridurre la sintomatologia acuta e una fase successiva per lavorare sulla vulnerabilità. Perché? Perché questa fascia di popolazione manifesterà dei sintomi durevoli mentre il resto della popolazione torna a stare bene? Probabilmente c'è un nucleo di vulnerabilità che è ascrivibile a un periodo antecedente al covid che il covid semplicemente ha risvegliato ed ora si mostra. Ecco una parte successiva del lavoro psicologico andrà proprio a lavorare su questa vulnerabilità del soggetto, rendendolo quindi meno incline a delle ricidive, migliorando quindi globalmente il suo stato di salute psicofisica. Il lockdown può anche essere visto come un evento positivo? L'esperienza della quarantena può però anche essere vista come una possibilità, come una potenzialità. Infatti è noto che ci sono persone che in carcere si tolgono la vita e persone che nello stesso carcere raggiungono una realizzazione personale. Questo perché nell'esperienza della quarantena viene offerto a ciascuno di noi una situazione unica di riduzione del rumore della vita quotidiana. Nella quarantena tutto ciò che era la nostra vita quotidiana per la maggior parte di noi si è ridotta, non siamo andati a lavorare, siamo rimasti in casa, siamo rimasti più fermi e che cosa succede quando il rumore attorno a noi si ferma? Succede quello che gli erimiti, i monaci, le persone che vanno a meditare nei conventi sperimentano, cioè c'è l'incontro con se stessi, nel momento in cui intorno a noi si fa silenzio incontriamo noi stessi. Cosa possiamo incontrare? Possiamo incontrare anche paure, possiamo incontrare temi irrisolti, possiamo incontrare una forma di pensiero che ci comunica qualcosa di negativo su di noi e sugli altri. È per questo che le persone temono moltissimo l'assenza di stimolazioni. Siamo in una società che viene bombardata di stimolazioni, non riusciamo a stare nel silenzio. Il covid e la quarantena ci hanno offerto l'occasione del silenzio e incontrare noi stessi anche con le nostre problematiche è indispensabile perché per avviare un processo di crescita personale dobbiamo incontrare le problematiche, dobbiamo conoscerle, non possiamo sempre allontanarle. Questa è una società, è un periodo storico che punta a esorcizzare, a fare rumore, ad allontanare i problemi, ad allontanare i conflitti interni. Invece non c'è soluzione se non c'è incontro con i conflitti interni. Solo così possiamo dare avvio a un processo reale di crescita personale. Inoltre molte persone hanno incontrato anche non solo le loro paure, ma anche un senso di benessere, di libertà, di energia creativa. Io ho visto diversi pazienti stare molto meglio nel periodo del covid, nel periodo della quarantena. Persone che hanno scoperto come si sta bene nell'essenzialità e questa comprensione, questa intuizione, moltissime persone sono riuscite a portarla con sé anche cessata la quarantena. Quindi vale la pena di citare il proverbio, non tutti i mali vengono per nuocere.